ciao sono il dottor max della farmamax che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video dove io personalmente vi leggerà i bugiardini in questo video ti leggo il bugiardino del farmaco cotareg novartis farma spa ultimo aggiornamento 8 aprile 2022 cosa a cotareg confezioni informazioni commerciali sulla prescrizione indicazioni posologia controindicazioni avvertenze speciali e precauzioni di impiego interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione assumere cotareg durante la gravidanza e l'allattamento effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari effetti indesiderati sovradosaggio proprietà farmacodinamiche proprietà farmacocinetiche dati preclinici di sicurezza elenco degli eccipienti farmaci equivalenti farmaci esteri cosa cotareg cotareg a un farmaco a base del principio attivo valsartan più idroclorotiazide appartenente alla categoria degli antagonisti dell'angiotensina ii più diuretici e nello specifico bloccanti del recettore dell'angiotensina ii arbs e diuretici è commercializzato in italia dall'azienda novartis farma spa cotareg può essere prescritto con ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica confezioni cotareg 160 mg barra 12,5 mg 28 compresse rivestite cotareg 160 mg barra 25 mg 28 compresse rivestite cotareg 320 mg barra 12,5 mg 28 compresse rivestite cotareg 320 mg barra 25 mg 28 compresse rivestite cotareg 80 mg barra 12,5 mg 28 compresse rivestite informazioni commerciali sulla prescrizione titolare novartis farma spa ricetta rr medicinali soggetti a prescrizione medica classe a principio attivo valsartan più idroclorotiazide gruppo terapeutico antagonisti dell'angiotensina i più diuretici forma farmaceutica compresse rivestite indicazioni trattamento dell'ipertensione arteriosa essenziale negli adulti cotarega un'associazione fissa indicata nei pazienti la cui pressione arteriosa non ha adeguatamente controllata dalla monoterapia con valsartano idroclorotiazide posologia posologia la dose raccomandata di cotarega una compressa rivestita con film una volta al giorno si raccomanda la titolazione della dose con i singoli componenti in ciascun caso deve essere curata la titolazione dei singoli componenti alla dose successiva allo scopo di ridurre il rischio di ipotensione e di altri eventi avversi se clinicamente appropriato nei pazienti la cui pressione arteriosa non ha adeguatamente controllata dalla monoterapia con valsartano idroclorotiazide si può considerare il passaggio diretto dalla monoterapia all'associazione fissa pur che a copyright venga seguita la sequenza raccomandata di titolazione della dose per i singoli componenti dopo l'inizio della terapia deve essere valutata la risposta clinica cotareg e se la pressione arteriosa rimane non controllata può essere aumentata la dose di uno dei due componenti fino ad una dose massima di cotareg 320 mg barra 25 mg l'effetto antipertensivo a sostanzialmente presente entro due settimane nella maggioranza dei pazienti l'effetto massimo si osserva entro quattro settimane per alcuni pazienti possono tuttavia essere necessarie 48 settimane di trattamento questo deve essere tenuto in considerazione durante la titolazione della dose solo per cotareg 320 mg barra 25 mg se dopo otto settimane di trattamento con cotareg 320 mg barra 25 mg non si osserva alcun effetto aggiuntivo di rilievo si deve considerare il trattamento con un medicinale antipertensivo aggiuntivo alternativo vedere paragrafi 4 3 4 4 4 5 e 5 1 modo di somministrazione cotareg può essere preso con o senza cibo e deve essere somministrato con acqua popolazioni speciali pazienti con compromissione renale non ha richiesto alcun aggiustamento delle dose in pazienti con danno renale da lieve a moderato velocità di filtrazione glomirulare a 0 yen 30 ml barra min a causa del componente idroclurotiazide cotareg ha controindicato nei pazienti con grave danno renale velocità di filtrazione glomirulare 30 ml barra min e anuria vedere paragrafi 4 3 4 4 e 5 2 pazienti con compromissione epatica in pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata senza colestasi la dose di valsartan non deve superare gli 80 mg vedere paragrafo 4 4 non ha richiesto alcun aggiustamento delle dose di idroclurotiazide nei pazienti con compromissione epatica da lieve a moderata a causa del componente valsartan cotareg ha controindicato nei pazienti con grave compromissione epatica o con cirosi biliare e colestasi vedere paragrafi 4 3 4 4 e 5 2 anziani non ha richiesto alcun aggiustamento delle dose nei pazienti anziani pazienti pediatrici l'uso di cotareg non ha raccomandato nei bambini al di sotto di 18 anni a causa della mancanza di dati sulla sicurezza e sull'efficacia controindicazioni ipersensibilità ai principi attivi ad altri medicinali contenenti derivati della sulfonamide o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6 1 secondo e terzo trimestre di gravidanza vedere paragrafi 4 4 e 4 6 grave compromissione epatica cirosi biliare e colestasi grave danno renale cliarance della creatinina 30 ml barra min anuria ipocaliemia refrattaria iponatriemia ipercalcemia iperuricemia sintomatica l'uso concomitante di cotareg con medicinali contenenti all'ischireno controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o con compromissione renale vfg 60 ml barra min barra 1,73 m2 vedere paragrafi 4 5 e 5 1 avvertenze speciali e precauzioni di impiego modifiche degli elettroliti sierici valsartine l'uso concomitante di integratori di potassio diuretici risparmiatori di potassio sostituti del sale contenenti potassio o di altre sostanze che possono aumentare i livelli di vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione interazioni relative sia valsartansia idroclorotiazide uso concomitante non raccomandato litio durante la somministrazione concomitante di litio con ace inibitori antagonisti del recettore dell'angiotensina iotiazidi compresa vedi la scheda tecnica del farmaco rcp completa accedi al sito www.codifa.it interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere cotareg insieme ad altri farmaci come eurosabelcet complesso lipidico a euro eurosambizone a euro eurosbenzilpenicillina potassica k24 pharmaceuticals a euro eurosfluss 40 euro eurosfuncizone a euro eurosfurosemide accorda euro eurosfurosemide eurobindo a euro eurosfurosemide doc generici compressa a euro eurosfurosemide fisio farma a euro eurosfurosemide galenica senese a euro eurosfurosemide al.f.m. a euro eurosfurosemide milan generics compressa a euro eurosfurosemide salfa a euro eurosfurosemide teva a euro eurosfurosemide teva generics compressa a euro euroslasitone a euro euroslasix compressa a euro aeuro slasics, compressa, soluzione, uso interno, aeuro, aeuro slasics fiale aeuro, aeuro slasics, soluzione aeuro, aeuro sigmacillina aeuro, aeuro spirofura aeuro, aeuro stelborafa aeuro, eccetera. Chiedi al tuo al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute, assumere cotareg durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere cotareg durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Valsartan, l'uso degli antagonisti del recettore dell'angiotensina ii, aeira, non ha raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4, 4. L'uso degli aeira ha controindicato durante il secondo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari Non sono stati effettuati studi relativi all'effetto di cotareg sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. In caso di guida di veicoli o di utilizzo di macchinari, si deve considerare la possibilità di occasionali capogiri o di stanchezza. Effetti indesiderati Le reazioni avverse riportate negli studi clinici e di rilievi di laboratorio, verificatisi con maggior frequenza con Valsartan più idroclorotiazide rispetto al placebo e le segnalazioni post-marketing individuali sono presentate, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it Sovradosaggio Sintomi Il sovradosaggio di Valsartan può provocare una marcata ipotensione, che può portare ad un ridotto livello di coscienza, con l'asso circolatorio e barra o shock. In seguito a sovradosaggio di idroclorotiazide possono inoltre verificarsi i seguenti segni e sintomi. Nausea Sonnulenza Ipovolemia Disturbi elettrolitici associati ad aritmie cardiache e spasmi muscolari Trattamento Le misure terapeutiche dipendono dal momento dell'ingestione e dal tipo e dalla gravità dei sintomi, dando priorità alla normalizzazione delle condizioni circolatorie. In caso di ipotensione il paziente deve essere posto in posizione supina e si devono somministrare rapidamente soluzioni saline. Il Valsartan non può essere rimosso mediante emodialisi, a causa del suo forte legame alle proteine plasmatiche, mentre la rimozione dell'idroclorotiazide può essere effettuata con la dialisi. Proprietà farmacodinamiche Categoria farmacoterapeutica Antagonisti dell'angiotensina In associazione con diuretici, Valsartan e diuretici Codice ATC C09DA03 Valsartan barra idroclorotiazide Solo 80 mg barra 12,5 mg In uno studio in doppio cieco, randomizzato, controllato con Proprietà farmacocinetiche Valsartan barra idroclorotiazide La disponibilità sistemica dell'idroclorotiazide viene ridotta del 30% circa in caso di somministrazione contemporanea con Valsartan. La cinetica di Valsartan non viene influenzata in modo rilevante dalla somministrazione contemporanea. Dati preclinici di sicurezza La potenziale tossicità dell'associazione Valsartan barra idroclorotiazide somministrata per via orale È stata esaminata nel ratto e nella scimmia, Marmoset, nel corso di studi della durata fino a 6 mesi. Non sono Questa rega base di Valsartan più idroclorotiazide sono Compresse rivestite Valsartan idroclorotiazide HCS Valsartan più idroclorotiazide Milan Valsartan idroclorotiazide Pensa Valsartan più idroclorotiazide Sandox Valsartan più idroclorotiazide Sun Compresse rivestite Valsartan idroclorotiazide Tecnigen Compresse rivestite Valsartan più idroclorotiazide Teva Italia Valsartan più idroclorotiazide Teva Pharma Valsartan più idroclorotiazide Teva Valsartan più idroclorotiazide Zentiva Compresse rivestite fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato. Grazie per aver guardato il video.